Oggi siamo di nuovo su Medal of Honor per continuare la missione di Road to Hellfire questo è il terzo episodio siamo pronti ci incazzeremo imprecheremo contro gli altri intercalare a raffica me ne fate un cazzo ho scelto di usare l'armona overpower no no non è l'armona overpower perchè non lo so usare cazzo sei un nemico tu ma dove mi fa spawnare anche il carro adesso in attacco in difesa io oh questo gioco mi prende per il culo ma cazzo ogni volta comincia a giocare porca troia quel playhead cosa sei una puttana this house is on fire ha distrutto la torre e sono anche sdonato ma non me ne fotte un cazzo questo è un canale di gameplay non di ricerca di talenti del canto la donna immobile ma al più dal vento muta da cento e di pensiero siamo in attacco adesso sì che abbiamo anche il carro via dove è il carro che me la campero sul carro adesso cazzo no no whatsapp vaffanculo corri corri mio no ho sbagliato il tasto sì cazzo me non guido io motherfucker eh vabbè ma senti che casino ti trappano le orecchie che sta cosa dio bono non sento un cazzo vaffanculo come si esce f no giuro si riesce a capire una biga no stronzo ma non mi ha dato neanche l'assistita via mimetizzazione via ma cazzo sulle fumaggine non fanno danno me ne ero completamente dimenticato quattro colpi perfetti vabbè vabbè no no sono forti sono forti nessuno hacker in questo gioco sono io scarso ok ma io sparo per sicurezza poi metti che li trovo li becco ma chi se ne frega ma questa sarebbe missione tattica e comunque come potete vedere dice è come corsa di battlefield wow wow mi hanno colpito non so da dove ricarica ricarica non mi piace quella casetta lì no non penso di aver sparato con il colpe dell'assistita ok sono al di là wow che ninja che ninja oh ok ok turudu 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 ci abbiamo no ogni volta devo scegliere la ricompesa ammazzano pirla sono un pirla e vabbè ce l'ho ancora non l'ho lanciato benissimo oh via posso usare il carro o c'è lo stronzo che guida vaffanculo c'è lo stronzo che guida via facciamoci un pochi di punti dai cazzo ma un obiettivo l'abbiamo fatto no neanche quello che scarsi ok è qui dietro è qui dietro no no stronzi eh mai più prendiamole il fire porca troia poi sempre una squadra scarsa guarda i punteggi no beh forse il primo nostro dai si salva ah dietro dietro eh via no ma dai ma vaffanculo che mi devi laggare quando passo sempre sulla strada ok 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 via tu muori stronzo con l'rpg ok qua c'è un altro qua dietro sono sicuro che è morto io cammino basta uno sguardo per uccidere tutti a questo è servito più di uno sguardo però è morto comunque torna al fronte torna al fronte subito subito dai 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 io lancio il granata a caso però si bella laggata ok l'ho visto l'ho visto l'ho visto guarda questo salto atletico oh cazzo no no è finita la mappa qua c'è un altro qua c'è un altro ma vaffanculo oh ok 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 ci siamo ricarica ricarica dai dai cazzo no 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 c'è un altro qui oh ok carichi carichi oh via di assist oh no no porca puttana dai ho fatto una strage sti incompetenti non ho fatto un cazzo è tempo di usare le armi pesanti via così missili a caso spero di prendere qualcuno oh uno l'ho colpito cazzo meno male l'ho preso in testa vabbè non l'ho preso in testa dove sono i nemici dove sono i nemici dove sono i nemici no voglio piazzare gli esplosivi cazzo vai in corsa in corsa così proprio proprio così ne me 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 che casino mi sono no ma gente con nomi normali no eh ma che camperone questo quanto sta facendo pop deck sei otto e sei su un carro oddio povero perché andiamo con gli stronzi in squadra no no sono tutti no non sono stronzi sono solo apprendisti al doppio della mia esperienza però è un apprendista vaffanculo non è vero sei scarso grazie lanciate pure gli rpg ma che cazzo è ok vi ho visto vi ho visto oh 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 cosa ho fatto cosa ho fatto si no ci capivo più niente non ci capivo corri corri è frenetico come gioco l'avete capito si via 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 oh avanti spionaggio quel cazzo che è dai 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 qui qui nemico sei un nemico sei un nemico e muori ma muori mac pom mmm dio poi io boni morite perché non morite si spawn kill bitch like a boss ma questo che non muore dio cristo ma come l'ho ucciso vedi che lag questo cioè dopo mezz'ora muore oh 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 qua 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 no la 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 e ma dio bono ma sei figlio di ergo le case superman c'è non muoiono ma voglio vedere un soldato con tutta sta cosa ok via e muori ma pomodoro ok mi prendi per il culo devo venire così se so easy va il momento umane scusate imprecazione in dialetto troie ma che cazzo sono contenti di easy guarda che pippe è in squadra ma dai python 1 ripeto python 1 ripeto mangiami il culo guarda che pippe stronzi schifosi pipponi scarsi possono anche lasciare col cecchino perchè non ammazzano neanche di un colpo a cagare adesso ci daranno tanta merda che scarsi ma che scarsi mamma mia ma perchè devo avere queste seghe guarda ma porca troia ma un bel my little bone una bella partitella no eh porca troia vediamo vediamo nemico nemico ho sbagliato di premere sbaglio di premere perchè li spotto non lo vedo più perchè c'è il fumo dove cazzo è finito? wow e i colpi mi arrivano ma mica li vedo eh guarda bello bello io sono aiutati muori in testa muori male si si muori anche tu un poco si si perchè non muori dai e muo- oh ok quanti ne uccisi va bene va bene spionaggio spionaggio via così che mi faccio i big money via così altri soldi altri soldi si si via così ma buh buh attacco coi razzi qua a caso oh quanti ne uccido quanti ne uccido guarda guarda eh guarda boom 1 2 cazzo l'ho lanciato lì dove erano tutti ma assistita oh oh ragazzi 10 11 punti e c'ho l'ail fire signori ce la possiamo fare la missione si può concludere possiamo farcela signori ti prego ti prego cazzo ti prego 2 punti www.mapsi 1 punto 1 punto nooo nooo this is doesn't had a Ma perché ce l'hai con me Ma vaffanculo Non ho bestemmiato mai E' uno stronzo 11 ore sto facendo Vaffanculo E le pippe che c'ho in squadra Stronzi Tutti voi Se siete le brutte persone Cagare va Cagare anche tu Che cazzo vuoi Muori un poco Non muori invece Perché non muori Muori t'ho detto Dai ti ho sparato in testa Ma vaffanculo Muori Mamma mia mi prende per il culo Oh E che cazzo finalmente Odio boni Scusa eh Ma vaffanculo Tutti quanti Cara troia Era un punto Non avevo L'elfire Era un punto Cristo Perché mi odio Perché mi odio Perché mi odio Guarda i colpi Dopo quanto arrivano Sul nemico Ma Vedi Sì Sì Tanto 11-1 Vedi Che merda Vien fuori Ormai Mi son depresso Oddio Cano Ma vaffanculo Ma vaffanculo Guarda che roba Lag 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 Monster No Ma Mi ha buttato fuori Per troppe Bestemmie Vaffanculo Vaffanculo Cagare Vaffanculo Porca Merda Ok Va bene Inizio di sclerare Boh Date i vex E tutto E un prossimo Fottuto Episodio Dio Tuve il fire Ciao a tutti